buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo dell'argomento del giorno si parte con le gps l'aggiornamento delle gps 2022 entro le prossime 48 ore sarà tutto chiaro avremo le date e si potrà veramente partire con la domanda tra le ultime due giornate di aprile e le prime 20 giornate di maggio prima domanda se l'aspirante supplente vuole inserirsi in gps solo con il titolo di laurea e con i 24 cfu per una data province per una data classe di concorso come deve fare nella compilazione della domanda allora per inserirsi in una data province per una data classe di concorso avendo solo la laurea con tutti i relativi crediti previsti dalla normativa vigente e i 24 cfu l'aspirante deve entrare sul sito del ministero dell'istruzione e selezionare il link gradatore provinciale di istituto di supprenza per gli anni scolastici 2022 2023 e 2023 2024 una volta entrato nell'area per l'inserimento della domanda dopo aver letto la normativa di riferimento si farà accedi alla sezione per la scelta della provincia si seleziona una sola provincia da un menu a tendina e dunque sceglierà la provincia desiderata e si farà clic su avanti per accedere alle informazioni anagrafiche e poi facendo ancora avanti la domanda sarà di fatto inserita a sistema e si entra nella sezione del modello di presentazione della domanda da dove appunto sarà obbligatorio scegliere le gradatorie di interesse la relativa fascia di riferimento e inserire appunto il titolo di accesso per la scelta della tipologia di gradatoria si fa clic su azioni disponibili e si individua la tipologia di gradatoria nel caso specifico del chi ha una laurea di una laurea e i 24 cfu dunque in questo specifico caso si andrà a scegliere gradatori provinciali di istituto per le supplenze della scuola secondaria di primo e secondo grado per la seconda fascia domanda numero due quanti sede quante sedi di servizio si possono inserire per il gradatore di istituto e come si fa ad inserirle si possono inserire fino a un massimo di 20 scuole per singola classe di concorso scelta e inserita a sistema per inserire si deve compilare la sezione del modello di domanda sedi gradatori di istituto si sceglie la classe di concorso e si opera attraverso il tasto aggiungi sede le sedi possono essere aggiunte anche più di una alla volta attraverso la ricerca per comune si deve ripetere l'operazione per tutte le classi di concorso inserite a sistema terza e ultima domanda l'aspirante che ha prestato un anno di servizio alle dipendenze del ministero di istituzione senza demerito ha diritto ad una preferenza si ha diritto alla preferenza numero 17 cioè quella chiamata come preferenza q lettera q da selezionare nella sezione titoli di preferenza può segnare la preferenza q il docente che abbia svolto servizio per non meno di un anno alle dipendenze del ministero della pubblica istruzione e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l'esplicamento del proprio incarico non meno di un anno significa che sono sufficienti cinque mesi e 16 giorni di servizio o un servizio continuativo dall 1 febbraio agli scutini di fine anno secondo quanto previsto dalla legge 124 99 dico anche che tale preferenza parità di punteggio consentirà di essere graduati nella migliore posizione rispetto agli altri che non hanno questa preferenza speriamo che le risposte a queste domande siano utili per la compilazione della domanda che ripeto partirà sicuramente tra gli ultimi due giorni di aprile e la prima ventina dei giorni di maggio seguiteci ancora nei nostri canali social facebook youtube instagram e nel nostro sito www.tecnerascuola.it perché sull'argomento in questo periodo tratteremo con tanti articoli video tutorial e tanto altro ancora arrivederci a tutti grazie a tutti